Ciao a tutti! Nuovo video focus, questa volta dedicato alla categoria di pendenti precious e pendenti special cut. Questa linea è composta di pendenti in diversi materiali, pietra dura, cubic zirconia, vetro e vetro occhi di gatto. Si tratta per lo più di pendenti doppio lato, non esiste quindi un lato anteriore o un lato posteriore perché la sfaccettatura è presente su entrambe le facce. Questo vale un po' per tutta la linea come potete vedere, salvo per questi qui che sono in vetro occhi di gatto e hanno invece il fondo piatto. In questo caso la loro bellezza è accentuata dal castone, si tratta di un castone in finitura dorata e tempestato per tutto il perimetro della goccia di cubic zirconia, mentre per quanto riguarda il gancio per pendente si tratta di un gancio saldato chiuso. Questi sono gli unici della serie che hanno appunto il fondo piatto e sono disponibili in queste quattro colorazioni che vedete qui. Sempre incastonati ma con un incastonatura molto più semplice, fatta semplicemente da un filo argentato, sono questi ovali di giada, queste due forme irregolari in vetro invece, in questo caso si tratta di un opal, un vetro bianco opal, mentre in questo caso un vetro color acquamarina. Si nota bene la differenza fra questo e questi qui che sono invece di cubic zirconia per cui il cristallo è molto più luminoso e anche la sfaccettatura è diversa. Anche per quanto riguarda il castone in questo caso non è liscio ma il filo è zigrinato. Quindi oltre ad essere particolarmente luminosi per la bellezza della pietra, diciamo, anche il castone in questo caso contribuisce alla lucentezza del componente. Anche in questo caso si tratta di gocce di giada sfaccettate su entrambi i lati, ma come potete vedere in questo caso la goccia non è incastonata, ha semplicemente il foro al quale potrete agganciare un gancio per pendenti di vostra scelta. Anche in questo caso si tratta di gocce doppio lato, sono sfaccettate su entrambi i lati, sono un pochino più piccole, ma soprattutto sono un pochino più spesse, in questo caso si tratta di gocce di vetro e sono mezzo foro. Hanno cioè solo il foro qui in alto, non c'è foro d'uscita, per cui si prestano molto bene anche alla realizzazione di orecchini. Queste in particolare sono fornite in una confezione di due pezzi. La goccia mezzo foro è anche disponibile in pietra dura, in tre diverse tipologie di pietra, avventurina verde, agata muschiata ed occhio di tigre. Anche in questo caso si tratta di un pendente mezzo foro, la forma è la briolette e sono questi tre colori disponibili, sono due di vetro e questo viola in vetro occhi di gatto. Questa è la coloratissima linea di pendenti precious special cut, la potete trovare sul sito di hobby perline sotto la macro categoria perline nella categoria pendenti. della stessa tipologia abbiamo anche una serie di cabochon di cui parleremo a breve in un altro video e che potete trovare ovviamente sotto la macro categoria perline nella categoria cabochon special cut in questo caso. Ciao a presto!